Il giovedì mattina c'è un servizio che è attivo già da alcune settimane e che si ripete negli anni. È l'autobus che parte da Terra Nuova Bracciolini, passa da Lorociuffenna per andare fino al Prato Magno. È una piccola iniziativa, un piccolo servizio, però importante soprattutto per le persone che non hanno la macchina o che vogliono godersi il viaggio. Voluto dall'amministrazione comunale di Lorociuffenna e di Terra Nuova Bracciolini, perché? Perché questa è una delle tante iniziative che vanno a valorizzare un'area molto bella del nostro territorio che è il Prato Magno, che è destinata sia ai turisti che ai residenti, perché tante sono le persone che amano andare in Prato Magno e però magari non ne hanno la possibilità di andare con un mezzo proprio. Quindi in collaborazione con l'amministrazione comunale di Terra Nuova che condivide con noi la programmazione turistica abbiamo pensato appunto a questo servizio di bus che rende molto accessibile il Prato Magno per tutti e che dà veramente anche un motivo di evasione appunto alle persone anche che non possano andare in ferie, credo quindi che sia molto importante anche che questo sia un servizio destinato anche ai cittadini e non solo ai turisti. Quindi niente, sono tutta una serie di iniziative che portano attenzione verso il Prato Magno che negli ultimi anni ha tratto veramente il sentimento di molte persone e è stato visitato da molte persone. Assessore, ricordiamo gli orari, come usufruire del servizio e soprattutto dove arriva? Allora, si parte dall'autostazione di Terra Nuova Bracciolini alle 8.30, c'è un numero che è direttamente il numero dell'autista per prenotarsi e diciamo per avere anche tutte le varie informazioni, si rientra tardo pomeriggio 17-18 e si arriva da Giocondo, quindi nella zona sotto proprio la croce del Prato Magno e da lì poi non è libero insomma di fare piccole escursioni oppure insomma godersi la montagna. Credo che sia diciamo un frutto di un lavoro che insieme al Comune di Loro portiamo avanti sulla programmazione del territorio e sul turismo e credo che sia merito anche proprio del Comune di Loro che in questi anni, devo dire, ha fatto un'azione di racconto e di riscoperta di tutta la grande bellezza che c'è nel Prato Magno. Credo che non sia mai stato così comunque valorizzato, frequentato. Ci sono tantissime iniziative che raccontano i fiumi, i piccoli borghi, la parte insomma naturalistica, quindi credo insomma sia merito anche di un'azione importante che porta avanti il Comune di Loro.